Cancelletto Daniele Bossari ha incontrato la compagna Cancelletto Filippa Lagerbac durante la scorsa puntata del Grande Fratello VIP. I due non si vedevano da tempo, a USA del reality, e Bossari ha mostrato in diretta il suo essere passionale, baciando ripetutamente la compagna. Il desiderio dei due è stato subito palese, ma hanno dovuto trattenersi per la presenza delle telecamere. La conduttrice, Ilari Blasi, ha scherzato, sottolineando come i baci di Bossari fossero più passionali di quelli di Ignazio e Cecilia. Daniele e Filippa, video virgola stanno insieme da 17 anni ed hanno una figlia bellissima. Il conduttore non ha fatto mistero di desiderare un altro figlio, riproponendosi di dirlo alla Lagerbac una volta uscito dalla casa del GFV. Inoltre, Bossari ha anche chiesto in diretta alla compagna di sposarlo, offrendole un mazzo di fiori e un anello, messigli a disposizione dalla redazione del programma. Insomma, l'incontro con la donna, è stato un momento molto romantico. Una volta ritornato dai suoi compagni, però, Daniele si è lasciato andare, affermando che avrebbe voluto tr la sua Filippa. . Ecco la reazione dei coinquilini alla frase di Bossari.Daniele e Filippa Una frase che spiazza Daniele forse non ha usato proprio un'espressione galante per descrivere la passione che lo lega alla sua compagna. La sua frase 8, infatti, ha lasciato di stucco i concorrenti della casa, in particolare Luca Onestini che gli ha fatto notare che il termine non si addice molto a colei che diventerà la sua futura moglie. . Insomma, un Bossari sempre misurato e controllato, si è lasciato andare, facendo cadere tutti i freni inibitori. Tentato per scherzo da Aida e Espica, Daniele non ha ceduto, dimostrando di nutrire un sentimento molto profondo nei confronti della Lagerbac. La conduttrice Blasi, assieme ad Alfonso Signorini, gli ha fatto credere che Filippa fosse rimasta sconvolta dal suo rapporto con la Iespica e non volesse più vederlo. A quel punto, Bossari si è detto pronto a lasciare il programma per chiarire con la Lagerbac, una donna molto importante per lui. Per fortuna, poi è stato svelato lo scherzo e Daniele ha potuto riabbracciare la sua compagna. Appena uscirà dalla casa, inizierà ad organizzare le nozze tanto desiderate, progettando anche l'arrivo di un bambino. Se volete essere sempre aggiornati su Notizie di Gossip e TV come questa, cliccate sul tasto Segui posto in alto. Cancelletto Grande Fratello VIP 2 Mario Ruggero Domenico Mungiguerra Domenico Mungiguerra Ciao!